Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo tutorial ti spiego come risolvere gli errori della connessione wifi che è connessa a internet però non ha nessun accesso a internet quindi in questo caso se è connesso, ok come puoi vedere è connesso però non ha l'accesso a internet come puoi vedere a me è accesso a internet però se a te è connesso e c'è scritto non accesso a internet qui c'è veramente un grosso problema quindi in questo caso in questi piccoli passaggi ti spiego come risolvere questo errore prima di cominciare ti consiglio di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanellina quindi iniziamo prima ad andare un attimo su impostazione, risoluzione, problemi andiamo un attimo su altri strumenti di risoluzione dei problemi e andiamo a vedere se c'è qualche errore nella rete, quindi rete e internet perché dobbiamo prima eseguire una scansione e vedere qual è il problema da risolvere quindi andiamo su esegui ovviamente uscirà questa serie di domande che ci dirà di fare non so, riavviare il pc, riavviare il tuo modem quindi facciamo caso, prova un altro sito web per verificare se verificare un problema con la rete è un sito web specifico, quindi riavvia la scheda rete wifi, riavvia la scheda, riavvia il pc esci dal test di rete, quindi in questo caso quello che ci consiglio di fare è riavviare il pc sicuramente se riavvia il pc dirà ancora non accesso a internet riavvia la scheda di rete wifi questo pure può essere di grande aiuto, quindi in questo caso chiudiamo un attimo qua e andiamo su gestione dispositivi e questa è la nostra scheda di rete come puoi vedere ci sono queste frecce su questi monitor sembrano le monitor, sì queste frecce sono più un download di un aggiornamento quindi bisogna aggiornare i driver per queste cose qua quindi in questo caso io vado sulla mia scheda di rete che sarebbe la tip link wireless nbci express questo è l'adattatore faccio disabilita dispositivo e per un attimo la connessione si disattiverà quindi in questo caso tu non vedrai più il video quindi prima di disattivare guarda tutto il tutorial quindi fai disabilita dispositivo oh sennò si disabilitiamo abbiamo disabilitato il nostro dispositivo andiamo a vedere se possiamo aggiornare questo dispositivo quindi cerca automaticamente i driver cerca driver aggiornati in Windows Update bisogna riabilitare abilita dispositivo una volta abilitato mi connetto alla rete mi sono connesso e vedete se dovete fare qualche aggiornamento su una di queste schede di rete ora andiamo un attimo su opzioni internet andiamo su connessioni impostazioni LAN se in questo caso c'è scritto server proxy quindi se la sponda sta su server proxy togli questa sponda e metti rileva automaticamente impostazioni e fai ok e chiudi qua una volta fatto in descrizione ti ho lasciato una serie di comandi da inserire sul prompt dei comandi quindi in questo caso tu apri cmd prompt dei comandi come amministratore ovviamente ti consiglio prima di guardare tutta la guida perché sicuramente ci disattiverà un attimo la rete per fare un ripristino sulle connessioni pv4 dns e poi l'ipv6 quindi andiamo su il documento prendete appunti quindi in descrizione ti ho lasciato questa serie di comandi andiamo a fare NETSWINSTOCK RESET facciamo CTRL V rimpostazione del catalogo di Winstok completata ora andiamo a fare NETSWINSTOCK RESET una reimpostazione completata alcune cose è riuscita così a completare un'operazione altre invece non è riuscito e bisogna riavviare il computer per completare l'azione poi facciamo pure il terzo pure questo ci dice di riavviare così il nostro computer e adesso passa alla parte del famoso ipconfig flush dns qui farà anche una verifica sui server dns della connessione ha svuotato così le cache sulla dns ipconfig relays proviamo ogni cosa che ci permette di aggiustare la nostra rete ipconfig renew quindi in questo caso ipconfig relays ha disattivato la nostra rete e l'ha abilitato con ipconfig slash renew e ora passiamo con NETSWINSTOCK IPV4 eccolo qua ultimo passaggio ok una volta fatto chiudiamo un attimo qua e riavviamo così il nostro sistema e vedere se si è risolto se no in questo caso andiamo un attimo sulla impostazione di rete e internet impostazione di rete avanzate andiamo su più opzioni per la scheda di rete ed eccole qua le nostre connessioni andiamo su proprietà andiamo su protocollo internet versione TCP IPV4 se in questo caso sta su utilizzi i seguenti dirizi server dns tu togli questo e metti questo ottieni un indirizzo server dns automaticamente e ottieni automaticamente un indirizzo ip e fai ok per altri problemi clicca qua sopra disabilita la rete e ricollega la rete se in questo caso è proprio un problema fisico quindi in questo caso se tu hai un adattatore di scheda di rete tu dovresti scollegarlo rimetterlo cercare il tip link wireless quindi in questo caso io vado su internet e cerco tip link wireless usb adattatore una di queste cose qua driver e vediamo questo no bisogna trovare il proprio adattatore e scaricare i driver e state certi che poi si risolverà mi era già successo anni fa che avevo attaccato questo adattatore non avevo la rete per scaricarlo quindi in questo caso ho fatto router wifi con il mio telefono e attraverso i dati poi ho scaricato il driver e si è risolto ho installato il driver e si è aggiustato questo adattatore quindi se riesco a trovare andiamo su drive up ed ecco lì qua io l'ho trovato e posso installare questo driver se in questo caso è anche un problema della scheda madre tipo tu stai collegato con un cavo ethernet vai sulla tua scheda madre quindi io vado sulla mia scheda madre B450 Gaming Plus Max e da qui in poi posso scaricare pure i driver per la mia scheda madre quindi sperando di trovare le specifiche no le specifiche andiamo sul supporto eccole qua driver downloads driver bios vediamo un po' se posso trovare driver chipset driver no lan lan drivers e attraverso la mia scheda madre io posso scaricare questo driver lo installo e si risolve sia la connessione wifi che il cavo ethernet quindi tu cerca come si chiama la tua scheda madre per vedere come si chiama la tua scheda madre tu fai sidestem information ah eccola prodotto scheda di base B450 Gaming Plus Max cercate questa cercate i download di supporto della vostra scheda madre da qui in poi potete anche aggiornare il bios i driver per l'audio per l'audio pure è importante e niente quindi se questo video ti è stato utilissimo su come aggiustare il problema della connessione di rete internet il cavo LAN ethernet ti consiglio di iscriverti lasciare un like per problemi commenta e vedrò di aiutarti e quindi grazie a tutti per questa visione noi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao